quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi diciamo relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al reddere azione con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli nella realtà una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile procura notarile parte partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario immediatamente dopo l'aggiudicazione il decreto di trasferimento consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile una volta individuato l'immobile la perizia che è stata depositata in tribunale insieme all'avviso di vendita insieme a tutta una serie di altri documenti che seguono l'esecuzione immobiliare verranno inviati al vostro notaio di fiducia che dovrà redigere la procura speciale per la partecipazione all'esperimento d'asta del nostro avvocato questa procura è bene precisare che è una procura adatta cioè servirà solo ed esclusivamente per l'esperimento d'asta dell'immobile che abbiamo individuato qualora dovessimo decidere di fare una seconda asta dovrà essere di nuovo redatta una nuova procura proprio perché è una procura che nello specimen segue quell'immobile e quell'esperimento d'asta il vostro notaio di fiducia quindi riceverà tutta una serie di documenti e avrà il conforto e il confronto con i nostri professionisti e con il nostro staff legale questo consentirà al nostro cliente di avere la possibilità di essere servito dai nostri legali ma soprattutto di essere consapevolmente assistito anche dal proprio notaio